Integrazione e inclusione sono questi i temi scelti dall'Istituto Agronomico del Mediterraneo per celebrare la giornata mondiale dell'alimentazione. In un momento in cui i paesi sono alla ricerca di nuove risorse e nuove forme di sviluppo, l'OIAM da 50 anni è impegnato nel promuovere agricoltura sostenibile attraverso la formazione post-universitaria di giovani provenienti da tutti i paesi. Al fine di elaborare nuove strategie, l'OIAM ha colto in occasione del World Food Day ambasciatori e funzionali diplomatici provenienti da 15 paesi dell'Africa subsahariana e le delegazioni dei ministeri italiani degli affari esteri, del lavoro e delle politiche agricole e forestali. Un nuovo patto societario, non sociale, di società. Le società si stanno evolvendo perché il mondo è cambiato, dobbiamo cambiare gli strumenti educativi, formativi e di cooperazione e noi da qui, da Valenzano, stiamo partendo proprio da questo. Celebriamo un momento importante che però bisogna festeggiare ogni giorno, come nutrire il pianeta e al tempo stesso dobbiamo cercare attraverso lo sviluppo e lo sfruttamento dell'unica risorsa inesauribile, la nostra mente, la nostra intelligenza, puntarla decisamente verso i giovani attraverso processi formativi diversi. Attraverso lo IAM è stato lanciato un nuovo progetto AFORIL, ossia Formazione e Prepartenza degli Immigrati Lavoratori in Agricoltura. In pratica è un programma formativo per i lavoratori agricoli immigrati da avviare nei tre paesi di partenza, Egitto, Tunisia e Marocco. È un nuovo modo di interpretare questa collaborazione e questo inserimento degli immigrati, formandoli direttamente nei loro paesi di origine, quindi non portandoli in Italia e poi formandoli, ma andando lì, formando le persone in base alle esigenze delle aziende italiane e quindi non in maniera indiscriminata, ma già con una loro collocazione presso le aziende italiane secondo le esigenze delle aziende italiane. La presenza dei funzionari e dei diplomatici dei paesi dell'Africa subsahariana è stata anche occasione di conoscenza e confronto al fine di stabilire nuovi rapporti e sviluppare economie comuni. L'Africa in questo momento è un continente di grandissime potenzialità, è il continente dove forse è possibile adesso realizzare quel modello di sviluppo sostenibile che tutti andiamo cercando e auspicando, anche imparando dalle lezioni del passato effettuate in altre parti del mondo. Questa collaborazione si sposa quindi con la cultura dell'integrazione e dell'inclusione che oggi può dare tanto in uno scambio reciproco di sinergie. È un accordo importante perché segna un cambiamento delle politiche migratorie con i paesi di origine. Sono paesi che vanno aiutati anche tramite l'immigrazione, il miglioramento delle competenze dei lavoratori che migrano verso l'Italia e soprattutto mettendo in campo condizioni per il loro rientro per farli diventare protagonisti dello sviluppo locale. Emblematico il rapporto nato anche con la Repubblica delle Mauritius che ha già sperimentato rapporti di collaborazione con altri paesi sviluppando forme di agricoltura sostenibili. Il governo italiano ha capito l'importanza di mettere le proprie conoscenze a disposizione di questi paesi anche con l'ausilio e il patrocinio dell'Unione Europea che finanzierà questo progetto. Generosamente l'Italia mette a disposizione queste conoscenze che dovrebbero trasformarsi in spirito imprenditoriale nei paesi interessati dal progetto, quindi generare anche ricchezza ma anche generare la pace e la stabilità e la condivisione di una ricchezza umana a favore di tutti i paesi del continente africano. L'impegno dello IAM si concretizza così nella nascita di nuove sinergie e nella formazione di giovani che trovano in questo istituto la chiave per mettere a frutto le loro capacità e pensare ad un futuro brillante per sé e per il proprio paese. In occasione di questa giornata dedicata all'alimentazione mondiale ma anche all'integrazione e all'inclusione, l'Istituto Agronomico del Mediterraneo ha consegnato 40 diplomi ad altrettanti esperti provenienti da 13 paesi del Mediterraneo. Questa chiusura dell'anno accademico e del loro percorso di studi.